Ad esempio Regione Lombardia, noi non abbiamo problemi con la Lega e tranquillamente governiamo. Come governiamo in Veneto, noi ci basiamo su un programma, come è stato detto precedentemente, regole chiare, amicizia luna. Scusa, sei come Casarini praticamente, vediamo un pochettino. No, perché il nostro programma è diverso rispetto a quello di Casarini e rispetto a quello del PD, quindi è un programma di centro-destra, contraino Partito Popolare Europeo, a tal punto che Forza Italia è il primo partito della coalizione di Musumeci.